Come non vedrà mai la luce, una prospettiva che piace ai grillini, il cui leader oggi è tornato ad attaccare Napolitano, aggiungendo Renzi e Dell'Utri, per me pari sono. Le riforme del governo sono già arenate e il Senato, Assemblea di Condominio non piace a nessuno, neanche del PD. La legge elettorale è bloccata perché temono che il Movimento 5 Stelle possa rovinare l'inciucio tra PD e Forza Italia. In realtà il Movimento 5 Stelle vuole davvero tagliare i costi della politica senza rovinare la democrazia.